È un miracolo che ogni anno, da 18 anni, si ripete puntualmente nel periodo di Natale a Cagliari. Un appuntamento fisso che si rinnova sulla scalinata di Nostra Signora di Bonaria. Cibo, giocattoli e tutto quello che solitamente si trova sotto l'albero si potrà portare invece davanti alla Basilica del Capoluogo Sardo. Per i cagliaritani è il miracolo di Natale che quest'anno raddoppia. Fino alle 21 di oggi, infatti, la raccolta si farà non solo davanti alla Cattedrale Cagliaritana, ma anche nella chiesetta di Balai a Porto Torres, sempre con l'aiuto della Caritas. Prima la comunità europea ci fornivano di tutti i viveri, adesso, quando c'è crisi, meno male che c'è il miracolo di Natale, che per due mesi buoni riusciamo a contentare i nostri assistiti, e sono tanti. I doni anche quest'anno sono migliaia. Viveri, prodotti per l'infanzia, indumenti, tutto è utile, anche perché la Caritas deve pensare a mille famiglie, circa 4.500 persone, tra le quali anche 200 bambini sotto i due anni. In un contesto di grande difficoltà economica che stiamo vivendo, anche come Sardegna, dove un terzo degli abitanti vive una condizione di povertà, dove anche i 30.000 che hanno perso il lavoro e che vivono la mobilità, e quindi il sussidio di mobilità che non ricevono da più di un anno. Non c'è povero che non possa aiutare un altro povero, e questo è il messaggio che ci viene adesso, anche quest'anno, dal Natale e dal miracolo di Natale. Sulla scala della Basilica si può portare di tutto, non c'è, rischio di sbagliare regalo. In questo momento la gente ha bisogno di solidarietà e anche di farla, perché le persone che fanno solidarietà lo fanno con il cuore, ma sono veramente felici di dare, e poi le altre persone che sono felici di ricevere.